Buongiorno a tutti, oggi stiamo stati, come si dice, conquistati dai giapponesi, tutti i giapponesi, tranne ovviamente il mitico canadese, un messicano e io con la cazza di Vesp. Poi quello davanti a me ha sbloccato il coso con l'amiibo di Captain Falcon. Ah, fa culo, ho sbagliato, non ho usato il turbo. E volevo provarlo, come si usava il turbo, cazzo, rola. Che cazzo è quel lotto là? C'era un otto strambo, e vabbè, questa, questa mega, mega partituna online, online almeno, come avete visto anche nel primo video, con il bell'uomo online si gioca a, sto cazzo dalla batteria scarica, puttana Eva. Sta schifosa che l'ho caricato 80 miliardi di ore, e mo' è ancora scarica, va bene. Che cacchio ci faccio ultimo, che gordi. Ah, sono ultimo, ma sarei penultimo, perché poso Mario Volpe e l'ha bloccato all'inizio, molto bene. Le, e che cacchio. Meno, per adesso online, ah, è la mappa Animal Crossing, salve. Online si gioca molto molto bene. Ho provato a fare una partita online anche a Fast RMX, ma non mi trovava, puttana Eva, sta figa di, di cose di funghini schifosi. Basta, datemi qualcos'altro. Datemi il guscio blu. E non ho trovato neanche una partita, invece qua, ovviamente il gioco è, aspetta, fatemi prendere uno. E va, fanculo. Mentre qua, l'unica pecca che c'è, mappe non le ho ancora fatte nei Grand Prix Mi, con la grande sfida contro l'altro. Che non si sa il nome, sono ultimo. Eh, che cacchio. Datemi quale robe. Il, il coso, il mega bombone. Yes. Finalmente ho preso sto cacchio di coso, di fulmine. Permesso. Arrivederci. Adesso arrivo primo. Con tutti questi cacchio di giapponesi che saranno sicuramente a scuola. E staranno bighello grande invece di studiare. Lo so io, eh. Di solito si venono tutti loro. No, ha preso la stella qua dietro. Yes. Datemi qualcosa di potente. Eh. Ah beh, insomma. Eh, ho sbagliato il turbo. Che cazzo sto a fa? Che sto a fa? Via. I am nono. Ho sbagliato un attimo, diciamo, la percorrenza dello Sturbos. Eh, l'ho preso un po' in quel posto. Datemi il mega coso. E fa un culo ancora sto figa di turbo infinito. Via. Turbo infinito nono. Come decimo. Mi chiappano sempre sul traguardo. Incredibile. E' che bisogna aspettare quello là che è bloccato, vero? Che canzone triste. Perché mi mettete quella tristessa qua. The Animal Crossing. Oh. Allora, finiamo? Yuhuuu. Pianziamo tutti. E' la fine. Bowser, viva. E mo? Si è applicato un errore di comunicazione. Damn! Eccoci qua con tanti giapponesi come solito e anche tanta gente che è proprio in Parts Unknown. È parente di Kane che non si sa dove è nato. Ah, ovviamente mi devo unire alla partita. Fanculo. Secondo giro di tre. Questo qua ha preso il Mi. Piacerebbe prendere anch'io un amiibo per sbloccare robe strane. Che cazzo è andato questo? Che faccia c'ha questo uomo qua? Sto giapponese. Dubito che i giapponesi abbiano sta faccia. Vai, Kiyotk. Magari sei parente di Nakamura. Beh, dubito con quegli occhi. La prima position. Link. Passa prima. Dov'è Link? Ecco. Link con la mega cosa. Con la mega moto. Con la banana. Ti si mangia la banana. Mettila giù. Mette giù la banana. Omito la prima. Si arriva all'ultimo giro. Terzo giro. Link lo farà con in mano la banana. Beh, di solito ha in mano la spada. Però, vabbè. Una banana che ride. Non c'ha voglia di lasciarla giù. Vabbè. Con quei cosi strambi lì. Che non si capisce bene che cosa siano. E che nome abbiano. Tanto lui se ne sbatte. Oh. Dov'è il primo? Perché non me li becca tutti? Mi becca tutti. Schillo Bowser. Molto bene. C'è il primo Bowser Junior. Lo vedo io, eh. Che c'è su anche il bavaglino. Altrimenti si sporca tutto quando mangia. Dov'è chi è andato? Ah, ha preso tutta la spruzzata nera in faccia. Le ultime curve. Un geyser. Sì, l'ha preso. Bacciatemi le chiappe. Vai. Strano che non abbiamo messo... Assaturate le mie scoreggia, ha detto. Strano che non abbiamo messo... Che abbiano tolto, più che altro, Diddy Kong. Di solito c'era sempre, almeno io mi ricordo. And the winner, ragazza Splatoon. Almeno, credo. Tutti che festeggiano. Sa che prima la partita era crashata per colpa di quel deficiente che era bloccato fermo? Sì, Bowser Junior. Sarà Peach tua madre? Non lo so. E lì, eccoci. Sempre tutti giapponesi. Un Messico italiano là. King Boo che non si sa bene di che razza, eh. Statunitensi e gente da parti che non si sanno. Che ca... Ah, Volpino Mario. Allora, mo' vediamo. Due. Yes! Grazie mille, Taco Player. Questa cosa non la dirò mai. Al bell'uomo si fotte. E la madò che botta che si prende. Mica, stiamo facendo il Destruction Derby? Ta! Beccato nessuno. Dov'è la strada? Qua. Stavo dicendo, incredibilmente sono terzo. Invece sti gazzi. Datemi qualcosa di perfido. Mamma mia, la perfidia del fungo. Quanti Todd. La madonna, quello là. Che si è preso bene a sparare le palle di fuoco incendia. Aiuto sto treno! Ce l'avevo io la precedenza. No, ma ma sto via! Mamma mia. Ciao Todd. Come state? Non so se prendere la scorciatoia. Che tanto non è che faccia più di tanto. Ma quasi quasi. Sti gazzi la prendo io. Mamma mia. Aiuto il treno! Prossima volta online se magari anche per una... Lo dico tutte le volte. Però non è brutta la guida assistita. Certo. Certe volte magari stai andando fuori e ti riporta dentro e ti fa perdere un po' di tempo. Su questo non c'è da dire. Tipo qua. Non so perché. Magari è stato anche l'online. L'online del cacchio. Comincio. Però adesso sta facendo un buonissimo lavoro. No. Si sta bene. Mi devo stare lontano dal primo che... Adesso si becca il guscio blu. Altrimenti lo beccavo anche io. E ciò non era bene. Abbiamo davanti quello che prima teneva in mano e la banana. Che poi si è mangiato anche due salsicce. E orco. Due salsicce. Una parmigiana. Che vuol dire? Che vuol dire? No. No. Come ho fatto ad evitare il guscio? I don't know. Pigliamo lo scorciatore. Ma vaffanculo che stavo andando di là. Ecco. Quella guida assistita di solito con lo scorciatore ti manda fuori traiettoria. Cazzo. Ma qua devo aspettare perché se no non becco. Tipo adesso perfetto. In culo gliel'ho mandata. Sto schifoso lurido. No. Ho sbagliato. Dovevo lanciarla da dritto. Dov'è il camioncino che fa fare il giro turistiche. Ah è già passato. Cagli fuori un punto di domanda. Ma perché mi ha rallentato Cristiano Ronaldo? Eh qua non so perché mi ha rallentato. Forse perché gli stavo andando nelle chiappe al signorino. Al cosino. Uh. Fanculo non l'ho preso. Vai. Mamma mia. Come a quarto. Che cazzo vuol dire. Tutte le volte che sono davanti al traguardo mi inchiappano. E vabbè. Siamo finiti i quarti. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. E voilà. I grandi punti. Dopo non so se si mantengono con altre partite in altri giorni. Ma tant'è. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo alla prossima con un nuovo gran premio. Palloncini. Partito online. Non si sa. Ciao. Ciao.